Giovane investito e ucciso a Pellaro finisce la fuga del presunto omicida. Il 42enne Francesco Sapone è stato arrestato a Motta San Giovanni dagli agenti della squadra mobile di Reggio Calabria, coordinati dalla procura regina. La sua auto era stata trovata nella mattinata di ieri. Cocaina per 850 milioni su un peschereccio partito da Bagnara. Un mare di droga nascosto dietro una pannellatura. 5,3 tonnellate di cocaina, il più grande sequestro mai eseguito in Italia. Il blitz dei finanziari del comando provinciale di Palermo e della componente aeronavale del corpo. La Regione Calabria ridisegna la scuola del futuro. Il presidente della giunta regionale Roberto Occhiuto e la vicepresidente Giussi Princi hanno illustrato le linee guida del piano di dimensionamento che prevede 281 autonomie, nuovi parametri e tutela delle aree interne. Regina si chiude la stagione Saladini. La proprietà della squadra Maranto passa all'imprenditore Emanuele Ilari. La gestione riguarda il 100% della società. Saladini continueremo a lavorare per la missione in B. Nuovo appuntamento con l'informazione ben ritrovati come sempre dalla nostra redazione Tg di oggi che in apertura dedichiamo ad un'ampia pagina di cronaca perché è durata poco più di un giorno. La fuga del presunto responsabile dell'omicidio del 27enne avvenuto nella nottata tra mercoledì e giovedì nel piazzale del distributore Carburanti a Pellaro, Reggio Calabria. Il lavoro della squadra mobile coordinata dalla procura di Reggio Calabria ha infatti consentito di rintracciare il 42enne Francesco Sapone. L'uomo è ora al carcere di Argilla e in passato era già stato coinvolto nell'inchiesta Reggio Sud. Tutti i dettagli nel servizio. Una giornata di ricerche coordinate dalla procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri ed effettuate dagli agenti della Polizia di Stato della squadra mobile è stata sufficiente per rintracciare l'omicida di Pellaro. Francesco Sapone, questo è il nome del 42enne che dopo una lite ha investito e ucciso il 27enne Mussin El Ranui. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti delle volanti a Motta a San Giovanni, è stato posto a fermo di indiziato di delitto ed è accusato di omicidio per i fatti accaduti nella nottata tra mercoledì e giovedì scorsi nel piazzale dell'istributore di carburanti Kuwait in località Pellaro a Reggio Calabria. L'intensificazione delle ricerche nella zona è stata predisposta a seguito del ritrovamento nella mattinata di ieri dell'auto di Sapone utilizzata per investire la vittima e un altro cittadino italiano che ha riportato solo alcune ferite. Quello di Francesco Sapone però non è un nome nuovo per le forze dell'ordine. Il 42enne infatti è ritenuto vicino ad alcune cosche di Andrangheta di Pellaro e in particolare Ficaralatella. Nel 2011 tra l'altro fu arrestato nell'ambito dell'operazione Reggio Sud contro l'Andrangheta. Condannato in primo grado a otto anni di reclusione con l'accusa di essere l'armiere della Cosca fu assolto in appello. Ora per Sapone si sono aperte le porte del carcere di Argilla. Un mare di droga nascosta dietro una pannellatura, 5,3 tonnellate di cocaina per un valore di oltre 850 milioni di euro. E' il più grande sequestro mai effettuato a bordo di un peschereccio partito da Bagnara Calabra con a bordo un italiano, il comandante di origini calabresi, due tunisini, un francese e un albanese. Maxi sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo. I dettagli nel servizio. Il peschereccio è partito da Bagnara Calabra con a bordo un italiano, il comandante di origini calabresi, due tunisini, un francese e un albanese. I finanziari del comando provinciale di Palermo e della componente aeronavale del corpo lo hanno bloccato con un'eccezionale operazione di servizio che ha portato al fermo disposto dalla Didia di Palermo di tutto l'equipaggio e al sequestro dell'imbarcazione e di oltre 5 tonnellate di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Si tratta del più importante sequestro di coca mai eseguito sull'intero territorio nazionale e uno dei più rilevanti a livello mondiale. Le oltre 5 tonnellate di cocaina sottoposte a sequestro destinate a rifornire l'intero mercato nazionale avrebbero fruttato introiti per oltre 850 milioni di euro. Il Mar Mediterraneo ancora una volta si conferma uno dei bacini mondiali maggiormente interessati dai traffici illeciti di droga. In questo scenario la Guardia di Finanza, nel ruolo esclusivo di Polizia del Mare, ha potuto sfruttare le potenzialità di un dispositivo integrato tra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale costiera e di proiezione grazie ad un controllo esercitato sulle frontiere esterne e a difesa degli interessi economico-finanzieri del Paese e dell'Unione Europea. Ancora una volta l'intervento è valso ad evitare l'immissione nel mercato nero di un quantitativo straordinario di droga. Assestando un duro colpo alla criminalità organizzata. E continuiamo con la cronaca perché un giovane centauro di soli 16 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di giovedì in via del Cerviero, non troppo distante dal Palazzo di Giustizia di Castrovillari. Giuseppe Pugliese, questo è il nome del 16enne, si trovava a bordo della sua moto quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione pubblica posto ai bordi della carreggiata. Le cause del tragico incidente sono ancora da stabilire. Le condizioni del giovane erano apparse da subito molto gravi. I sanitari del 118 avevano chiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il 16enne però è morto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Si è conclusa invece questa mattina un'attività ispettiva presso l'area industriale di La Mezzia Terme, l'area ex SIR, effettuati controlli sia analitici che documentali su alcuni siti presenti nell'area ed in particolare sul depuratore di reflui urbani di La Mezzia Terme, nel quale giungono i reflui di depurazione provenienti da quasi tutte le attività produttive di tipo industriale della zona. Sentiamo. Inquinamento e depurazione prosegue il lavoro delle forze dell'ordine in sinergia con Arpacal Regione Calabria per individuare eventuali falle nel sistema e per determinare le cause delle problematiche che da anni insistono lungo la costa Lametina. Si è conclusa questa mattina infatti un'attività ispettiva presso l'area industriale ex SIR di La Mezzia Terme che ha visto operare sul campo i carabinieri della locale Compagnia ed il personale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria. L'attività è consistita nell'esecuzione di controlli sia analitici che documentali su alcuni siti presenti sull'area ed in particolare sul depuratore di reflui urbani di La Mezzia Terme, nel quale confluiscono i reflui di depurazione provenienti da tutte le attività produttive di tipo industriale della zona. Per accertare l'effettiva funzionalità dei processi di depurazione e scongiurare quindi la possibile immissione nelle acque marine di sostanze inquinanti, i tecnici hanno effettuato i rilievi necessari per controllare la conformità dei parametri relativi alle acque in uscita al termine del processo di depurazione, sia di quelle in entrata per verificare l'eventuale immissione nel processo di depurazione di sostanze che possano interferire con la funzionalità dell'impianto. L'attenzione dei tecnici e dell'arma dei carabinieri si è infine concentrata sul canalone che scorre a fianco dell'insediamento industriale, le cui acque giungono direttamente in mare nel quale sono stati effettuati i prelievi in vari punti allo scopo di verificare la presenza di inquinanti ambientali che se presenti potrebbero essere la causa di molte delle problematiche che si registrano specie d'estate sulla costa Lametina. Le analisi che verranno eseguite dai laboratori Bionaturalistico e Chimico del Dipartimento Arpa-Calla di Catanzaro comprenderanno la verifica sia dei parametri microbiologici che di quelli chimici. Complice il grande caldo, si sono intensificati in queste ore gli incendi in Calabria, in particolare nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Nell'ultime ore un grave incendio, come vedete nelle immagini è interessato la collina di Pentimela a Reggio Calabria. Le fiamme si sono sprigionate nella tarda serata avvolgendo tutto il territorio circostante in una spessa coltre di fumo causando anche preoccupazione tra la popolazione locale. Fiamme anche nel territorio di Motta San Giovanni dove sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore dove sono state liberate alcune strade occupate. I rischi più grandi nell'area grecanica dove le fiamme partite da Capodarmi si sono diffuse rapidamente nella zona di Saline per arrivare adesso a lambire gli abitati di Roccaforte del Greco e merito Porto Salvo, come avete visto appunto nelle immagini. Dai controlli della qualità del mare di cui ci siamo occupati prima e della depurazione e ovviamente del rischio incendi, un'altra emergenza rappresentata appunto dagli incendi. Per questo l'Unical ha messo a punto, ha concepito un modello matematico ideato proprio per minimizzare i danni causati dagli incendi al patrimonio boschivo. Sentiamo i dettagli. In Calabria nel 2022 sono andati a fuoco 1800 ettari di bosco come certificato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nell'ambito delle osservazioni in monitoraggi degli impatti degli incendi di medie e grandi dimensioni sugli ecosistemi. In questo dato è presente tutta la gravità di un problema. La superficie forestale bruciata attesta la Calabria al secondo posto subito dopo la Sicilia. È evidente per questo motivo la necessità di efficaci interventi preventivi per ridurre il pericolo che incombe sull'enorme patrimonio boschivo regionale, soprattutto nel periodo estivo. E proprio sullo studio di un modello matematico previsionale è incentrato l'articolo redatto dal ricercatore dell'Università della Calabria, Carmelo Scuro, che ha vinto il Best Conference Paper Award ed è stato premiato come miglior lavoro nell'ambito di questo settore di ricerca. Il modello potrà essere un valido strumento e potrà portare all'indicazione di una piattaforma, di un'app oppure di un programma per supportare decisioni nell'intervento dei vigili del fuoco e degli antiproposti andando a salvaguardare non solo una porzione della Calabria ma anche tutta l'Italia. Lo studio dunque offre la possibilità di conoscere in anticipo l'evoluzione di un incendio. I ricercatori che hanno effettuato le simulazioni hanno adottato come caso di studio una porzione boschiva dell'asila. Questo modello ha portato alla realizzazione di un lavoro e mathematical model for the propagation of wheat fires presentato a una conferenza internazionale al Politecnico di Milano che va su il premio Best Paper Award. Ovvero il lavoro è stato votato come uno dei migliori della conferenza ed il migliore nell'ambito della fisica matematica. Andiamo adesso alla cittadella regionale per la presentazione dei nuovi parametri per tutelare le aree interne ridisegnando la scuola calabrese del futuro. Un'offerta formativa che punta a salvaguardare le aree interne della Calabria riducendo la dispersione e quindi la povertà educativa. E' questo il senso delle linee guida del nuovo piano di dimensionamento scolastico della regione per il triennio 2024-2027 approvate oggi dalla Giunta Occhiuto. Sentiamo. Un'offerta formativa che punta a salvaguardare le aree interne della Calabria riducendo la dispersione e quindi la povertà educativa. E' questo il senso delle linee guida del piano di dimensionamento scolastico della regione per il triennio 2024-2027 approvate oggi dalla Giunta Occhiuto. Secondo i dati forniti dalla regione in base ai nuovi criteri nazionali la Calabria avrà 281 autonomie scolastiche rispetto alle 360 dell'assetto precedente ma ne guadagna 3 in più stabilendo un parametro che tiene conto delle esigenze territoriali. In pratica la scelta della regione è stata quella di abbattere il vincolo 600-400 prevedendo di attivare nei centri più grossi autonomie con popolazione scolastica anche superiori a 1000 unità e nei centri più piccoli autonomie con popolazione scolastica di 600 unità o anche inferiori. In sintesi, si terranno in vita istituti anche con meno di 200 studenti. Abbattendo i vincoli dimensionali a salvaguardia delle aree interne soprattutto abbiamo disciplinato che è possibile nelle aree altamente popolate o nei comuni superiore ai 15.000 abitanti di attivare delle autonomie con una popolazione scolastica anche superiore alle 1000 unità lasciando le aree interne scarsamente popolate con una popolazione scolastica di 600 o anche inferiore. quindi delle autonomie che in quei centri isolati è possibile mantenere anche con 200-300 unità senza alcun vincolo dimensionale ma con esigenze legate alla salvaguardia dei contesti perché dobbiamo anche contemperare quello che è l'andamento demografico della popolazione nel prossimo triennio e quindi vogliamo salvaguardare quelle realtà interne che rischierebbero lo scopolamento. Voltiamo pagina, andiamo a Siderno dove il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri ha preso parte all'incontro Donne e Ndrangheta organizzato dall'Associazione Piccola Opera San Giovanni Onlus del Centro Antiviolenza Angela Morabito in collaborazione proprio con il comune di Siderno. In un mondo prettamente maschile come quello dell'Ndrangheta il ruolo della donna è molto importante e in molti casi è emerso come la donna gestisse gli affari ma le donne nelle famiglie di Ndrangheta sono anche quelle che si sono ribellate. Questi temi al centro dell'incontro Donne e Ndrangheta che si è svolto a Siderno nell'ambito della rassegna cinematografica Una Nessuna Centomila con tematiche che vedono protagoniste le donne. All'evento organizzato dall'Associazione Piccola Opera San Giovanni Centro Antiviolenza Angela Morabito in collaborazione con il comune di Siderno hanno preso parte tra gli altri procuratori di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri e Locri Giuseppe Casciaro. Un'occasione è stato sottolineato per sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni rispetto a un tema di fondamentale importanza. Parlare al di fuori delle canoniche giornate di sensibilizzazione vuol dire porre l'attenzione su un tema importante quale appunto può essere il ruolo delle donne o in generale la violenza sulle donne nel rapporto delle mafie perché in questo caso il collegamento può essere sulla questione dei giri d'affari ad esempio che ci può essere dietro quindi sfruttamento, prostituzione che non è in questo caso solo rivolta alle donne ma ci possono essere anche i minori o anche gli uomini stessi. È importantissimo soprattutto per le nuove generazioni in quanto le ragazze, le future donne che sono vicine a quegli ambienti sono ancora merce di scambio in alcune famiglie mafiose e negli ambienti limitrofi quindi bisogna sicuramente porre una grande attenzione soprattutto nella Locride al ruolo che queste ragazze potrebbero avere nel futuro per esempio dagli strumenti, permettergli di continuare a studiare ed essere più capaci di autodeterminarsi. Io voglio ricordare che Borsellino diceva di mafia bisogna parlare, parlare nelle scuole, parlare dappertutto ma parlare non per cercare facile consenso ma parlare per cercare invece la fiducia cercare di tenere alta l'attenzione perché non parlarne significa trascurare fenomeni che nel silenzio sono cresciuti, sono aumentati il cui livello di pericolosità è diventato altissimo. Comune e città metropolitana di Reggio Calabria a lavoro sulla transizione digitale a Palazzo San Giorgio il seminario di approfondimento con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri scopriamo di cosa si tratta. Sono nove i progetti promossi dal Comune di Reggio Calabria e città metropolitana nell'ambito della strategia digitale degli enti locali con circa 8,2 milioni di euro di risorse della PNRR. A Palazzo San Giorgio, sede dell'amministrazione regina si è fatto il punto su quanto avviato finora nel corso del seminario le risorse della PNRR per la strategia digitale degli enti locali insieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentato da Michele Vitiello. Tutto questo tempo è servito per preparare una piattaforma che guarda al futuro e che sicuramente si discosta completamente dal passato quindi un modo nuovo di interpretare ovviamente la politica con una vicinanza soprattutto per quanto riguarda la città metropolitana ai 97 comuni ma soprattutto ai concittadini che fanno parte del nostro territorio metropolitano in tema di accessibilità, in tema di controllo e in tema di monitoraggio. Vedete oggi una politica che non è supportata da numeri non può essere una buona politica e un buon amministratore deve sempre avere sott'occhio quelli che sono i numeri in positivo o in negativo proprio per migliorare quelle best practices che ovviamente nel tempo hanno visto il nostro territorio non sempre allineato con quelle che sono state le grandi città metropolitane d'Italia. In chiusura del nostro Tg restiamo a Reggio Calabria per parlare però di sport con un colpo di scena in casa regina. Il Club Amaranto in attesa della pronuncia del Consiglio federale, della FIGC e del risponso sul ricorso al TAR atteso per il 2 agosto il club è passato di mano all'imprenditore Manuele Ilari. L'ufficializzazione è arrivata nella tarda serata di ieri Lera Saladini dunque è giunta alla capolinea dopo poco meno di un anno. È stato ceduto a Manuele Ilari il 100% delle quote della regina 1914 e il comunicato della nota ufficiale della società Amaranto che specifica come l'accordo sia stato sottoscritto tra lo stesso Ilari e le società che fanno a capo a Felice Saladini e Angelo Ferraro che insieme detenevano la totalità delle quote della società calcistica. Manuele Ilari è un imprenditore romano che opera nel ramo del cinema il patrimonio è infatti legato alla MMR Cinema. La società è attiva da 60 anni e gestisce varie sale cinematografiche in Italia alcuni multisala a Roma e Iglesias oltre che in Sicilia. Ilari è anche presidente dell'Unione Esercenti Cinematografici Italiani il nome dell'imprenditore era già stato accostato precedentemente all'operazione di acquisizione del Messina Calcio ma il tentativo di entrare nel mondo del pallone da parte di Ilari era già uscito lo scorso anno nell'estate 2022 aveva partecipato al bando per il nuovo Catania senza però centrare l'obiettivo adesso la nuova avventura con la regina. Al termine della trattativa l'ex presidente Saladini ha parlato di scelta migliore per il futuro del club e ribadito comunque l'impegno a lavorare affinché venga riconosciuta la società l'ammissione al prossimo campionato di Serie B. Dal canto suo il neopatron si è detto felice di prendere il testimone per proseguire il percorso di evoluzione e sviluppo di uno dei club più appassionanti del Sud Italia. Tra cambi societari e tribunali esclusioni e possibili riammissioni continua l'estate rovente della regina e i tifosi restano con il fiato sospeso. Bene, con questo servizio si conclude l'edizione del nostro Tg grazie per la vostra cortese e attenzione vi lascio adesso ai programmi dell'altro Corriere TV a Sabla Grazie per la visione!